Sì, c'è un Citroen che va a Tiesto, no? No, è Ford. Tiesto. Viene, c'è un Citroen. Il segno è già 30 secondi. È una bella macchina. Il tipo di Corriere Coltetta l'ha vinto, Max. No, è proprio il segno che andava a tagliare. Non era un po' di macchina. Vedi che non allungava su? Era in... Ah, c'è un Citroen che è un Citroen. Non arrivano ieri tre. Prato, ti butto in mezzo alla strada. C'è un Citroen. 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 Ti ha visto la barbiccia? Ti ha visto la barbiccia? ... ... ... ... E' una mandolina E' una costata Mamma mia E' una costata 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 Grazie a tutti. Sto aspettando c'è l'altro? Tra due settimane. Sto aspettando c'è l'altro? Non lo vedo? Ah si. Sto aspettando c'è l'altro? Sto aspettando. Sto aspettando. c'è una cascilla forte, portano giù e il cavallo tra l'amore il si è un pezzo e si si è più molto che è più il filo il che è più buon il sezione per quanto riguarda ma prima lì cambiano le robe, lì facevano l'assistenza così, l'automacra, quel casco più in quel punto perché il mio account è andato a fare un sardegno e ha perso due tiri bello dopo ancora pieno da ieri sera si ma ho mandato un messaggio che è arrivato a casa alle 5 bello 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 è bello 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 E' un'altra parte. Sì, vediti, sono tutti uguali Sì, vediamo Sì, vediamo Sì, vediamo Sì, vediamo Sì, vediamo Sì, vediamo Sì Ti faccio vedere Sì 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 Provami Sì 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 Sì